Lo smart working è diventata la modalità di lavoro del futuro e la pandemia, evento fino a due anni fa inimmaginabile, ha messo in evidenza le esigenze nuove del mondo del lavoro pubblico e privato. Così Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del movimento cristiano lavoratori, ha spiegato a Napoli in un incontro nel circolo canottieri le motivazioni alla base del libro Smart Working da esigenza emergenziale, avvettore della Work-Life Balance, edito da Guido Editore. È un istituto che comunque va contrattualizzato, va regolamentato in tante sfaccettature che purtroppo nell'improvvisazione siamo riusciti a utilizzare. Basta pensare all'amplificazione delle reti wifi per consentire i collegamenti da remoto, per consentire il lavoro a casa per i dipendenti pubblici, per consentire il lavoro da casa in quelle attività che era possibile farle. Ma molte altre problematiche rimangono in piedi, basta pensare alle problematiche di infortunio sul lavoro per il lavoratore che ha un infortunio durante l'orario di lavoro, ma che però non è presente sul posto di lavoro, ma in altri luoghi come casa o domicili diversi. Il testo racconta e delinea le iniziali difficoltà dei lavoratori ad adattarsi al nuovo modo di lavorare basato sul raggiungimento degli obiettivi e meno sulla prestazione fondata sulle ore lavorative, ma sottolinea anche come lo Smart Working, inizialmente percepito come strumento emergenziale, abbia acquisito un'importante funzione equilibratrice tra vita privata e lavorativa. Alla presentazione sono intervenuti tra gli altri il presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo, e il segretario generale della Will Campania, Giovanni Sgambati. È un tema del terzo millennio, quello del lavoro agile, che però, anche se il credito cooperativo è stato tra i primi a prevederlo, disciplinarlo e svilupparlo con una serie di protocolli, va sicuramente affinato, va reso efficiente, perché la redditività delle imprese deve essere sempre al primo posto e non può mai, a nostro avviso, sostituire questo modello digitale, la possibilità del rapporto tra la gente, il rapporto dell'uomo, la guida della macchina, dell'algoritmo da parte dell'essere umano. Va regolamentato, non può essere solo un rapporto datore di lavoro e lavoratore. Questi ritardi hanno provocato grandi problemi, dei vantaggi, ma anche tanti svantaggi, se pensiamo anche da un pista economico, al mancato lavoro per tante attività, che ovviamente lavorando in presenza, penso alle mense, penso a tante attività che hanno sofferto, ovviamente, questa attività.